Un'escursione alle Gorgis di Alcantara. Nell'area di Messina. Termina in tragedia. Uno dei quattro escursionisti Palermo sono dispersi questo pomeriggio nelle acque del fiume. Alcantara si chiamava Fabio Valentino e aveva 58 anni. Il corpo dell'uomo è stato portato a bordo dell'elicottero dei Vigili del Fuoco. Che è intervenuto dopo che la richiesta di salvataggio ha ricevuto intorno alle 14.30 dalla sala. Operativa del comando Messina. Gli escursionisti sono stati immediatamente raggiunti e salvati dai Vigili del Fuoco personali con. Specializzazione SAF. Due alle difficoltà di recupero. L'intervento dell'elicottero Dragon VF 146 era necessario con subacquei e due anziani dei poliziotti. A bordo. Che furono collaborati da soccorritori del Parco Alcantara. All'arrivo delle squadre. Valentino non ha dato alcun segno di vita e il 118 medico non ha potuto fare a meno di accertare la. Sua morte. Le squadre dei Vigili Fuoco Letoianni e il personale volontario del distacco Moio. Coordinati dall'ispettore Alessio Minimacchiare.